Il Ponte Belvedere è uno dei punti storici e di snodo della città dell'Aquila, chiuso dalla mattina del maledetto 6 aprile 2009, si avvia alla ristrutturazione. A quasi sette anni dal sisma, la Giunta Comunale dell'Aquila ha infatti accolto una proposta deliberativa, a firma dell'assessore alla ricostruzione pubblica Maurizio Capri, contenente il documento preliminare alla progettazione dei lavori di consolidamento strutturale e ammodernamento architettonico del Ponte Belvedere. La spesa prevista è pare a 1.365.000 euro. Il Ponte di Belvedere, ricordiamo, realizzato tra il 1961 e il 1963, costituisce uno degli snodi centrali della viabilità del centro storico dell'Aquila. Ha una lunghezza complessiva di 95 metri, un'altezza massima di circa 20 metri ed una larghezza della sede viaria di 8 metri. Dalla relazione preliminare emerge che non ha riportato gravi danni dal sisma del 6 aprile. I lavori, ha dichiarato l'assessore Capri, porteranno al ripristino della piena viabilità dell'infrastruttura, sia al traffico pedonale, sia a quello veicolare. Inoltre, all'abbattimento delle barriere architettoniche, al miglioramento della sicurezza, all'utilizzazione di materiali che privilegino la facilità di manutenzione e la durabilità. Sulla base dello studio preliminare, redatto dalla Facoltà di Ingegneria dell'Università dell'Aquila e coordinato dal professor Dante Galeota, abbiamo potuto acquisire elementi importanti. I lavori andranno a ripristinare il Ponte attraverso interventi di rinforzo strutturale, sostituzione dei dispositivi di appoggio delle campate centrali, rifacimento del piano stradale e del sistema di illuminazione, con opere di drenaggio e finiture. In questo modo, conclude Capri, la città potrà riappropriarsi di un'infrastruttura strategica sotto il profilo della mobilità e legata profondamente alla storia e all'identità urbanistica del capoluogo.